Francesco Totti è risultato positivo al coronavirus. L'ex capitano della Roma si trova nella sua villa al Torrino dove dovrà rimanere in isolamento. Dalle ultime notizie anche la moglie Ilari Blasi sembrerebbe essere risultata positiva al covid-19 ma senza sintomi. Anche la madre dell'ex capitano giallorosso circa due settimane fa era stata contagiata nonché il papà Enzo scomparso lo scorso 12 ottobre proprio per complicazioni dovute alla positività da covid. In casa Inter anche le ultime flebili speranze di avere Lukaku contro il Real Madrid si sono spente. Il problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra non permetterà al belga di essere al Santiago Bernabeu per la fondamentale sfida di Champions League. L'obiettivo adesso è quello di averlo per la trasferta di Dominica Bergamo contro l'Atalanta ma anche in questo caso non ci sono certezze perché l'infortunio è delicato. Come seconda punta a fianco di Martinez è dunque probabile la conferma di Perisic. Archiviata la coccente delusione contro la Lazio in campionato con il rocambolesco 3-4 subito nei minuti finali il Torino è pronta a ripartire in vista del recupero di Serie A di mercoledì pomeriggio contro la Genoa alle ore 17. Il tecnico Marco Giampaolo ha fatto svolgere una sessione defaticante in piscina per gli elementi impiegati domenica e una seduta tecnica per i calciatori che non sono scesi in campo contro i bianco celesti. Buone notizie arrivano dall'infermeria. L'infortunio di Belotti è meno grave del previsto, trauma contusivo al ginocchio destro. Il calciatore è a rischio per la partita di mercoledì a Genova ma la sua convocazione per il match non è ancora da escludere. È il giorno di CR7 Ibra tutti ne parlano entusiasti l'elogio dei vecchi in questo momento è anche utile ma vorrei soffermarmi su un dettaglio c'è vecchio è vecchio quando ho visto ieri Ibra fare quel gol a Udine non ho potuto fare a meno di ricordare quel gol che praticamente ci cacciò dagli europei. Era il 2004, 16 anni fa eravamo rimasti sballorditi dall'elasticità di quel giocatore svedese che era passato come un acrobata sulla testa di Buffon. Ecco 16 anni dopo non sono chiacchiere, è una storia. Ibra si è ripetuto fatalmente lanciando l'idea che il suo Milan possa competere con la Juventus di Ronaldo, un altro fenomeno ma ancora giovanissimo rispetto al quasi quarantenne Zlatan Ibrahimovic. Grazie a tutti.